Ben ritrovati e ben ritrovati, in primis buon inizio di settimana, sperando che sia una settimana proficua per quanto riguarda il mercato della Juventus. Ho letto i commenti al mio video post Atletico Juventus 2-0 ieri a Goteborg, qualcuno l'ho trovato un po' troppo severo. Ora, secondo me, creare una tragedia su questo precampionato juventino non serve a niente e non corrisponde nemmeno alla realtà dei fatti, perché da Norimberga a Goteborg comunque abbiamo visto un'evoluzione della squadra in termini di concetti, di coraggio, di primissima impostazione, di movimenti con e senza palla, di voglia di fare la partita, se vogliamo anche di schemi. Poi, è vero, si sono stati presi troppi gol, alcuni imbarazzanti, e lì si deve lavorare in maniera massiccia. In primis lo stesso Tiago Motta, che, come ho avuto modo di dire ieri sul bianconero, secondo me in questo precampionato con questa rosa difficilmente avrebbe potuto fare di più. È importante testare, sperimentare, sbagliare, farsi delle idee, perché da oggi iniziamo a preparare la prima gara di campionato. Noi, lunedì 19, quindi esattamente tra una settimana scendiamo in campo con il Como, e lì non si può più sbagliare, perché anche la Juventus più sperimentale di questo mondo deve ottenere i tre punti. Ora tocca alla società, tocca alla società nella maniera più assoluta, perché credo che da punto di vista tecnico, tattico, atletico, Tiago Motta e lo staff abbiano fatto il loro, continueranno ovviamente a farlo per tutta la stagione, credo che accelereranno anche determinate cose, determinati concetti, nozioni in questa settimana, ma presentiamo delle oggettive lacune strutturali. Io non mi impanico, non l'ho mai fatto, la deadline non è Juventus Como per quanto riguarda il mercato, ma è l'ultimo giorno a disposizione di questa finestra. Detto ciò, non vivo in un altro mondo, e come ho già ampiamente detto ieri, proprio la partita in Svezia ti mette in faccia la realtà, cioè determinate situazioni funzionano, ma per svilupparle sarebbero dei calciatori sul mercato, dal mercato e che siano sul mercato, quindi prendibili. L'esterno offensivo, e mi sembra che qui tutte le strade ormai portino a Nico Gonzalez, in uscita dalla Fioreventina, è proprio il primo, secondo me, da regalare a Tiago Motta, ancora prima di Copp Maners, che è il giocatore, non un giocatore che ci farebbe fare il salto di qualità, è il giocatore attorno al quale, come abbiamo detto un milione di volte, la Juventus ha costruito l'intera strategia di mercato estate 2024. Ma l'esterno offensivo ci serve, nella maniera più assoluta, perché oggi, come oggi, il Diz e UEA, se vogliamo, sono due incognite. Speriamo che il turco diventi un elemento simbolo della Juventus 2024-2025, ma anche questi amichevoli ci fanno capire come il talento sia sconfinato, ma si debba fare ancora un percorso. UEA, la scorsa estate, era stato il miglior giocatore della Juventus nel precampionato, poi ha fatto la stagione che ha fatto, e è ripartito molto bene anche in questo precampionato, e facciamo tutto il tifo per lui affinché possa avere longevità alla Juventus. Ma ad oggi, sugli esterni, noi facciamo fatica. Poi è vero che, se analizziamo la partita di ieri, quello che sbaglia il gol è Vlaovic, non è il Diz, non è UEA, ma noi creiamo troppo poco. Giocando in questa maniera, sulle ali, dobbiamo cambiare passo. Per cambiare passo dobbiamo aggiungere qualità, e per aggiungere qualità dobbiamo effettuare due innesti. Non si scappa, da qui non si scappa. Chiesa o non chiesa, o meglio, se ci fosse chiesa nel roster, avremmo bisogno di un esterno offensivo. Ma dal momento che Chiesa è stato messo alla porta, noi anche a sinistra dobbiamo prendere quel giocatore. Io lì sono un po' spaventato, preoccupato, però osservo proprio, come giocando in questa maniera, ci serve un giocatore. Cioè UEA può essere l'alternativa, può essere un giocatore che nelle rotazioni, se cresce nella maniera giusta, diventa una piacevole sorpresa. Ma noi dobbiamo prendere il titolare lì, e il titolare ci serve per lunedì prossimo. Poi, anche se arrivasse Nico Gonzalez, oggi, fra cinque minuti, faccio fatica a immaginare che partirebbe dall'inizio, perché UEA, a differenza sua, avrebbe fatto tutto il precampionato con Tiago Motte, se vogliamo sarebbe anche giusto, ma un conto è avere Nico Gonzalez, eventualmente in panchina, con il Como, un conto è non avere nessuno. Cioè, lì, noi dobbiamo prendere il prima possibile un calciatore. Ho visto che vi preoccupano anche molto le situazioni difensive. Ci sta, perché abbiamo preso dei gol davvero fuori dal mondo. Ora, ieri, uno, sbagliamo però a livello concettuale, soprattutto con Cambiaso, il primo gol. L'altro, un errore in impostazione di Fagioli, che spiana la strada, il giocatore dell'Atletico, è cabal, stanco, poco lucido, prende un po' tutto, e giustamente viene fischiato il rigore. Lì si può migliorare. Cioè, sono sicuro che tra tot tempo, quel gol lì, il secondo, quel rigore lì, non lo commettiamo più. Determiate situazioni dobbiamo svilupparle. Svilupparle meglio, anche perché ora siamo più coraggiosi nella premissima in costruzione, e ci sono giocatori che non hanno mai avuto nelle loro corde fin qui determinati concetti. Vi faccio un esempio. Bremer. Bremer, che è un ottimo marcatore old school, è uno che uno contro uno a tutto campo non te la fa mai vedere se è in giornata. in costruzione, specialmente se gioca a centro-sinistra, e quindi si deve portare la sfera sul piede forte, fa un po' di fatica. E lì bisogna lavorare. Cioè, quando noi parliamo di lavorare, intendiamo proprio questo, cioè migliorare i calciatori in base alla richiesta dell'allenatore. Però sulla difesa, sì, sono d'accordissimo sul fatto che un difensore serva come il pane centrale. Infatti, il nostro primo obiettivo era fare in modo che Toddy Bo arrivasse prima di tutti gli altri, poi andata come andata. Però, sono convinto che lavorando, 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 perfezionandosi, facendo giocare un po' più gli stessi in determinate posizioni, senza sperimentare troppo, si va a costruire quel blocco che qualcosa concederà, perché giocando in questa maniera concederemo sicuramente qualcosina in più, ma alla lunga avremo anche grossi benefici. Il primo tempo di ieri, amiche e amici che mi seguite, non è banale, perché nel primo tempo, ieri, abbiamo fatto delle cose importanti contro un avversario forte. Contro un avversario che, comunque anche in amichevole, ti fa male, e basti ricordare la prima e ultima amichevole che avevamo fatto con loro alla continanza, 0-4, tripletta di Morata. Cioè, quando tu giochi contro l'atletico, non devi mai abbassare la guardia. E noi nel primo tempo, ieri, siamo stati coraggiosi, abbiamo lavorato in verticale, in ampiezza, abbiamo costruito, ci siamo mossi molto bene con Turam, che secondo me è stato il migliore. Poi abbiamo sbagliato le situazioni con Vlaovic, che per me ieri è stato il peggiore. Però, onestamente, credo che, chi è onesto intellettualmente, sappia riconoscere che da Norimberga questa squadra sia cresciuta. Poi basterà per fare una bella partita con il Como? Speriamo, questo non lo so io, non lo sapete voi, non lo sa probabilmente neanche lo stesso Tiago Motta. Perché quando ti ritrovi a 12 agosto in un cantiere non aperto, ma apertissimo, secondo me per le prime due gare di campionato non dico che tu ti debba accontentare di portare i sei punti a casa, ma ti devi accontentare di portare i sei punti a casa. L'evoluzione poi c'è dopo, specialmente dopo la sosta e quando avrai anche la rosa fatta e finita. Perché noi probabilmente al lunedì prossimo non avremo una rosa fatta e finita, ma questo lo sappiamo fin dal principio. Ho visto anche tante critiche a Cabal, sì ragazzi, anche calma, anche meno, sembrava che fosse un fenomeno dopo un amichevole e dopo ieri tutto lo buttano. No, bisogna lavorare, bisogna lavorare perché questo è un giocatore che ha potenziale, che è ancora da sgrezzare in determinate situazioni tecniche, nello stop, anche ieri, al secondo tempo, palla molto banale sul fronte mancino dove se lui la stoppa bene di petto andiamo a spingere, invece quella palla va addirittura fuori. E lì, lì ci sono delle situazioni che richiedono la massima benegrazione da parte tutte le parti coinvolte. Detto ciò, ora c'è bisogno che Cristiano Giuntoli, che ieri non era in Svezia, in quanto operativissimi, primissima linea sul mercato, c'è bisogno che la società possa davvero completare questo organico parallelamente lavorando, come si deve fare anche in uscita, perché quei nove esuberi extralusso sono ancora tutti alla continassa e questo non va bene. Quindi, riassumendo, sono incoraggiato dal primo tempo di ieri, un po' preoccupato dalla situazione, soprattutto esterni, è chiaro che, se immagino chiudo gli occhi, immagino Copp, per come abbiamo giocato in questo precampionato, mi sembra che tra le linee offensive sia decisamente il tassello che manchi a questa squadra, ora speriamo davvero nel lavoro di Cristiano Giuntoli, perché questa è una settimana, lo so, che vuoi, no, magari a definire, te questa sarà sicuramente la settimana decisiva per il mercato, no, per prendermi per il direttano. Non vi darò questa soddisfazione, ma vi dirò che è una settimana importante. Grazie a tutti.